Ciao a tutti e benvenuti a Gioca con me, giochi per bambini. Oggi vi presento questo gioco della Hasbro, si chiama Bakaru, vedete? Si tratta di un cavallino che se si imbizzurrisce, diciamo, non è proprio la vostra fortuna. Guardiamo qui dietro, vedete che si parla di... Bisogna cercare di mettere dei lazzi sul suo dorso, caricarlo finché il nostro cavallino non si imbizzurrisce e quindi inizia a scalciare, vedete, nella figura 3. E se scalcia, ovviamente, chi ha messo il lazzo per ultimo è fuori dai giochi. Vediamolo più da vicino, è per ovviamente i bambini dai 4 anni in su e fino a 4 giocatori, dai 2 ai 4 giocatori. Eccolo qui il nostro cavallino che scalcia, guardate anche i denti stretti, eh, perché è pronto a scalciare. Vedete qui la zampa che utilizza per scalciare. Qui abbiamo la sella dove si mettono appunto i lazzi. Bisogna caricarlo di roba. Ah, ecco, vedete, non sono solo lazzi, sono un bel po' di cose. È proprio un mulo, non un cavallo, proprio perché si carica di roba tipo appunto mandolino, cappelli e quant'altro. E questa è la pedana dove si inserisce il mulo e si aspetta che, anzi, si spera non si imbizzarrisca, ma prima o poi vi rispedirà tutto indietro, ragazzi, e vincerà lui. Vedete qui ci sono le istruzioni come preparare il vostro gioco, come realizzarlo e come giocare. Ecco, qui, ovviamente chi vince è quello che riesce a caricare per ultimo il mulo senza che questo scalci, ovviamente questo è il vincitore. Beh, cosa ne pensate del nostro baccaroo della Hasbro? Se ce l'avete già scrivetecelo e se invece non ce l'avete magari lasciateci un'opinione che noi le leggiamo sempre. Vi ricordo di lasciarci un like e di iscrivervi al nostro canale se ancora non l'avete fatto per rimanere aggiornati con noi. Ciao!